Vi chiedo di accogliere il nostro Davide Crespi, vi faccio ascoltare una bella melodia che ricorda la musica celtica. Alla fine degli anni 90 un bravo musicista si chiamava Hevira, proprio lui portava al successo questo brano che vi farà ballare, vi farà divertire. Questa sera ascoltiamo la bella interpretazione del nostro Davide Crespi al sax soprano. Questa sera ascoltando la musica celtica. Ho il piacere di presentare ad uno ad uno tutti i miei musicisti, parto dal basso maestro Roberto Campora. La chitarra! Davide tra forze! La chitarra! 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 Così, così! Un omaggio alla musica celtica, Davide Gresby, Musique de la Rille, complimenti al nostro Davide.